Ciao a tutti, questa barra di scorrimento in alto a destra che trovate in reception e in agenda identifica la previsione di fatturato. Cliccandoci sopra con il vostro utente personale potremo andare a vedere i dettagli. Allora, nella prima area di questo grafico abbiamo la giornata di oggi, dove con la colonna azzurra identifichiamo il valore economico, quindi quanto valgono i servizi che sono stati prenotati in agenda dai vostri clienti. Mentre a destra possiamo vedere qual è il reale fatturato realizzato. Chiaramente nei servizi prenotati avremo solo il valore dei servizi, mentre nella giornata di oggi ci sarà la suddivisione anche tra prodotti, tessere e servizi. Quindi questa percentuale che noi andiamo a vedere sia in agenda, sia in reception che in quest'area identifica a che punto siamo con il fatturato rispetto al prenotato. Quindi della previsione di fatturato minima oggi siamo al 76%. Chiaramente più superiamo, quindi quando superiamo al 100%, vuol dire che siamo stati bravi a vendere servizi diversi o prodotti rispetto a quanto prenotato, quindi quanto richiesto. Nella seconda area invece abbiamo la settimana in corso, quindi la previsione di fatturato minima di tutta la settimana in corso e la suddivisione di quanto abbiamo realizzato effettivamente rispetto alla previsione e quindi la percentuale complessiva della settimana.